Ciao a tutti, io sono Maurizio e vi do il benvenuto su Audiofilando, il canale dedicato a tutti gli amanti del vero ascolto. Grazie agli amici di iFight che me le hanno inviate, ho il piacere di integrare nel nostro impianto e farvi ascoltare, soprattutto, una coppia di diffusori da stand. Si tratta di diffusori molto importanti, sia per il prestigio del marchio che rappresentano, sia per le loro proprietà sonore. Sto parlando delle DIN Audio Evoque 20. Prima di iniziare vi ricordo, come sempre, di mettere il pollicione su a questo video e agli altri che trovate sul canale. Iscrivetevi ad Audiofilando perché più il canale cresce e più io e Elena avremo la possibilità di presentarvi i prodotti. Torniamo adesso a parlare di questo diffusore da stand, le DIN Audio Evoque 20. Le ascolteremo collegate al setup di casa, quindi la coppia NAD costituita dal player M50 e dall'amplificazione M2. Si tratta di diffusori da scaffale piuttosto importanti, proprio per questo lo scaffale lo lasceremo libero e le ascolteremo nel modo migliore, vale a dire appoggiati su due stand, in particolare i Nexus 6i dell'Atacama. Lascio qui sopra il link alla puntata in cui Elena ci presenta questa casa che produce mobili per hi-fi. A questo punto non possono mancare le mie solite raccomandazioni e istruzioni per l'uso per quanto riguarda queste prove d'ascolto. Sarò breve ma qualcosa, come sempre, la devo dire. Prendete con le molle, con le pinze queste prove d'ascolto perché vi ricordo sempre che l'unico modo per capire se un prodotto ci piaccia veramente o meno è ascoltarlo dal vivo con le proprie orecchie. La registrazione è stata fatta con il nostro registratore portatile, lo Zoom H4n Pro, in formato WAV, 24 bit e 96 kHz. In questo video troverete solo un breve, brevissimo estratto delle prove d'ascolto. Vi invito, come sempre, ad andare a recuperare le prove d'ascolto complete sul canale Telegram di Audiofilando per cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. Vi rimando per la review completa di questi diffusori e per le nostre impressioni d'ascolto al prossimo video che uscirà a breve sul canale. Quindi, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con la prova d'ascolto. Ok, a questo punto vi chiedo, come sempre, dopo aver ascoltato anche le prove d'ascolto sul canale Telegram, di lasciare qui sotto le vostre impressioni sul setup. Come vi ho già accennato prima, per i diffusori Bookshelf, soprattutto se come questi sono di fascia medio alta, è sempre raccomandabile, per non dire mandatorio, posizionarli su degli stand in modo da collocarli in ambiente nella posizione più opportuna. Certo che a questo punto molti di voi mi potranno dire, beh, ma se devo metterli su degli stand in mezzo alla stanza tanto vale che mi prenda dei flow standing. Quindi, a questo punto vi chiedo, qual è il vostro rapporto con gli stand per i diffusori Bookshelf? Li usate? Bene, per oggi non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi video, augurarvi buoni ascolti e ciao!